E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Steffi, che si chiama GTA 5 E oggi siamo qui per provare la nuova modalità di GTA Che si chiama Salti di Rigore E ovviamente la proveremo in compagnia di SpiGiochi Esattamente, spieghiamo brevemente come funziona questa nuova modalità Allora, noi siamo con delle macchine, le classiche Runner 2000 che possono saltare Prendiamo una rampa velocissimi, saltiamo, attiviamo il paracadute E dobbiamo cadere dentro un bersaglio Nel centro più, diciamo, vicino possibile Perché il centro darà 5 punti L'esterno 4 punti è 3, 2, 1 E ovvero è proprio bersaglio, come quello delle precette Esatto, però ovviamente come nelle bocce ci si può colpire e spostare Quindi sarà davvero difficile e succederà di tutto E il video è davvero divertente Quindi buona visione Chi è già partito? Chi è già partito? Qualche consolino di sicuro Chi buttiamo? Vado, vado, vado Siete sicuri? Va bene, andiamo Così, si parte proprio di ignoranza Assolutamente Prima round, sì Di ignoranza Rampata Rampata Piano, 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 paracadute Ok Mi raccomando tutti concentrati Con calma Con calma Espi sono leggermente dietro di te Cerca di andare un po' più veloce perché altrimenti ci scontriamo Ma dove vai Espi? Sto planando Con strategia Oh Espi Sì Mamma mia Che atterraggio Aspettate Ne sta arrivando un altro Guardate l'inato È un puntino nero Ci può prendere in pieno Ci prende tutti Io me lo sento Attenti Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda Vai giù Vai giù Vai giù Sì Oh Espi 12 punti abbiamo fatto Ottimo Ascoltatemi Stiamo fermi Espi Espi Aspetta Espi Ormai vai Ho fregato Vi aspetto qui Ok Allora A dieci secondi partiamo Ok Ok Così arriviamo tutti e quattro All'ultimo Anzi tutti e tre All'ultimo E li facciamo infattire Veloci Veloci Se non saltiamo Entro dieci secondi Esplodiamo Veloci Veloci 3 2 1 Ho fatto Oh Che abbiamo fatto Ok Allora c'è uno di loro che ancora non è arrivato Vado per primo Accelero un po' e vado per primo Cerco di buttarli via tutti Zero animo Arrivò anch'io Stef Ok 5 Arrivo in testa a tutti Perfetto Si è spinto sul 5 Stef Devi essere riconoscente Grazie Spuntavo proprio a quello Che ho spinto meglio Stef L'abbiamo raddrizzato sul 5 per fare un punteggio Saltiamo dalla felicità Oh no 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 Vai 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 Vabbè andiamo dai Andiamo in sync Andiamo in sync Tutti e tre ci sbattiamo tra di noi Io lo so già Io lo so già Prendo la vostra scia Andiamo Ok Piano 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 Con calma Loro mi sa che stanno aspettando questa volta Sì Dobbiamo Oddio Stef Espy non mi toccare Ti sto per urtare col parecadute Espy non mi toccare Espy Sto per urtare col parecadute Vado No non ho cliccato Mi sono dimenticato Addio Dove ti sa di me Stef Come Stef Espy sono atterrata sul 5 Sono atterrata sul 5 Perfetto Fatti 13 punti Bravi Ho premuto E A parte Stef cade Invece che spazio Non so bene perché Mi sono confuso Ma come mi puoi sbagliare ste cose E sono morto miseramente Perché parti subito Stef Eh ho deciso di andare per primo Prossimo salto Facciamo una challenge Che apre per ultimo il parecadute Ok Ci sto Bello questo Mi piace Ok No ma sono stra in basso Perché sono così Ok No non sto arrivando anch'io Ragazzi spingetelo Spingetelo Ho provato Ne arriva un altro Sì Grazie sul 5 Espy 5 Bravo Cavolo sì Deve ringraziare lui Più che altro E si viene aiutato Dali Capito Dali nemici E si fa il punteggio massimo Quando viene spinto I consolini Mi aiutano Ok Challenge senza paracadute Fino all'ultimo Ma partiamo pure subito Aspettiamo Non mi mettete troppo ansia però Che dite No meno subito Partiamo subito Dai ormai Andiamo Andiamo Ho capito che andrà a finire malissimo Malissimo Andrà a finire Ok Sto facendo Sto girando su Ma non devo aprirlo Devo aprirlo altrimenti non arrivo E io sono andato più avanti di tutti No mi è tolto il parecadute Espi non è stata una buona idea Siamo esplosi tutti e tre Non è molto bella Non è toccato il parecadute Però guardate L'unico che abbiamo mandato da solo Ha fatto cinque punti E meno male che c'è lui Ha salvato la situazione Roby Grandissimo Non sono danni noi Che non segue le nostre idee Facciamo solo danni noi un corno È colpa tu Espi No aspetta L'hanno colpito Ecco Ecco Ultime parole famose Dobbiamo stare zitti Io ve lo dico Dobbiamo stare zitti Non so se vorrei in tempo Aspetta mi espi Che stai combinando Ci posso Quattro Tre Due Uno Ok ce l'ho fatta Sono in volo Sono in volo Mi hanno spinto sull'uno Che tristezza No Fere Avrei fatto almeno quattro accidenti Allora Cercate di fare qualcosa di buono voi Uh è arrivato sul cinque volo Eccomi No Sì non è male Abbiamo fatto perdervi dei punti 12 e 11 Abbiamo guardato un punto Ok Fere Fere Vai da brava La blocco La blocco Perfetto Andiamo 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 Che può saltare Mi dispiace No Perché sta dando corta Aiuto Devo cercare di mettermi dritta No no ce la faccio Non ce la faccio È finita È finita ragazzi No perché Mi hai fatto perdere tempo Mi hai fatto esplodere Non so Non recupereremo Mai questa partita È persa Abbiamo buttato la partita Aspetta Vai ESP Dai con cinque No Mi ha capovolto Mi ha capovolto Zero Mi ha dato zero Perché si è capovolto Si ribatte Non otterrà i punti No Io vado Andiamo Andiamo subito Con le vostre idee mi avete solo fatto esplodere Quindi vado e mi faccio gli affari miei Fere ti sono dietro Stai attento a quello che dici perché ti prendo in pieno Non starmi neanche dietro Gli uni separati dagli altri Ti sono in alto Ti sono sopra Ti sono sopra Ti sono sopra Allora io vado su un 5 perfetto Non urtarmi Non urtarmi i freniti 5 5 3 2 1 Questo è un 5 perfetto Io lo dico Oddio Oddio No No Chi è stato Robi Perché l'hai fatto Robi Robi Vabbè abbiamo fatto un bel po' di punti Un bel po' di punti Non è che l'ha fatta apposta Io ero sul 5 Allora quanto abbiamo fatto rispetto a loro Aspetta No Aspetta Ribaltalo 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 Prego girati Che sta succedendo Non lo so Però dovrebbe essere così 14 a 7 Abbiamo recuperato 7 punti 5 punti Siamo sotto di 5 punti È fattibile È fattibile Possiamo fare? Credo di sì Credo di sì 5 punti 32 a 37 Vado Vado No 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 Espi espi Vai espi dai Non ascoltiamo Steph Che qua vinciamo Ha portato bene l'ultima volta Steph Ricordatelo Ok Ok Io resto qua per ultimo Dai 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 Tu sarai l'MVP Tutto in mano mia Il giocatore più importante Vado Speriamo Ok 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 Te lo auguro veramente Steph Perché ne abbiamo bisogno Abbiamo bisogno di una grande vittoria qui Ok A un secondo dalla fine Vado Buono 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 Io faccio 4 e spi 3 Ok Ma anche lo vedete Sta arrivando anche uno eh Sta arrivando anche inizio Piccolo viola spingimi Daniels spingimi Aspettate un po' Grazie Daniels Grazie Daniels Arrivo Arrivò Oh Mamma mia Bello Nonostante tutte le cadute rovinose che abbiamo fatte Siamo riusciti a vincere che bello Che recupero Fantastico Di prima era il riscaldamento Adesso Davvero Si gioca davvero Allora non vi putate Affacciatevi un pochettino E guardate che cosa c'è Allora guardate piano piano Oh mamma mia Vedete quei pallini Ogni pallino Io vado Ogni pallino Vale un tot di punti Non è più una sola piattaforma Io da lontano vedo Uno due tre Preparatevi Preparatevi Sbaglieremo alla grande Lo so Lo so Puoi puntare in alto oppure no Non lo so No il cinque è minuscolo ragazzi Il cinque Ma dai Allora io mi sa Allora io punto magari al tre o al quattro Io al quattro Punto almeno al quattro Allora io vado al tre Se farei punti al quattro Perché non ci stiamo tutti Fare come è difficile No No Ti hai tolto il paracadute No l'uno Punto al quattro Piano Niente niente Che sfiga Ho preso la grande Davvero Ho preso perfetto Ok allora 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 Io ho fatto uno Rubi ancora in volo Credo No Che successe Che successe Ok Nove pari Ho preso quattro Ho buttato giù Uno Mamma mia Aspetta Mi arriva un altro Danies Danies Perché mi rompì Le balle Danies Danies No No Espy Aveva fatto un buon Buonissimo punteggio Espy ma no Danies Continua a targettarmi Un solo punte L'ho fatto io No io ho fatto due Abbiamo fatto tre punti No Ce l'ho fatto uno Fere Eri ribaltata Mi sa No non ero ribaltata Ce li ha contati Non l'hai visto Un punto Siamo a nove Ah no Siamo i viola Scusate Erano i garancioni Un punto Scusa Comunque Comunque Cinque punti È impossibile È impossibile Io ci riprovo però Io ci riprovo Anche io ci riprovo Complimenti Davvero Davvero La perdiamo questa partita ragazzi La perdiamo Dobbiamo iniziare a puntare tutto il tempo al tre Altrimenti perdiamo malamente Io ho provato a puntare al tre Non sono riuscito a starci troppo Sopra È davvero difficile Davvero difficile Slitti un sacco E le piattaforme sono davvero piccole Il tre è fattibile però Io ce l'ho fatto Sì è fattibile È fattibile Il cinque L'ho preso in pieno adesso E non ci sono riuscito Provo a prendere questo qua in pieno Provo a prenderlo in pieno Boom Sì L'hai preso Sì L'hai fatta No No Questo mi voleva buttare Stai fermo No non ditemi che cado No Ferre Non cadere Ferre È salva Te l'hai fatta Ti sei salvata Ferre va bene È difficilissimo perché sono in bilico Va bene così Cinque a uno Cinque a uno E abbiamo vinto Va bene così Ferre Questo Si salvi chi può Questa è una nuova mappa Ed è ancora peggio Vedete quella lineetta Sì sì Espi Vedi quella linea lì in fondo Questa è quasi invisibile Sì Devi atterrare lì Non la prenderemo mai Non la prenderemo mai Non la prenderemo mai Praticamente no Praticamente larghezza auto Quindi tutto il tempo Noi andremo a sbattere con altre persone Oh mamma mia Terribile No robi togli Ti robi Ok Ok Stefano Non è male Che suono così Sono Tre più due Cinque Cinque punti Ragazzi ne arriva uno Ne arriva uno Ti prego fai guai Chi si vuole pigliare il cinque Ti prego No Ok Ok va bene E si è preso il cinque Quattro punti di svantaggio subito Allora Qua chi va per ultimo secondo me vince Bisogna andare una alla volta Non possiamo buttarci Anche Anche Chi parte per primo Robi Robi vai vai Robi vai Robi Vai 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 anche se non ci senti Dai è andato Aspetta ancora un po' Piano 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 Vado Suare vai tu Ok vado Ok Io vado per l'ultimo Dovremmo distribuirci un po' meglio in questo modo Provo a superarli Provo a andare oltre loro Ok Attenti Mi hai palzato fuori Robi Maledetto Ok io sono ferma qui Ok No mi spingete No Ok non è male Non è male Hanno fatto due punti Hanno fatto solo due punti loro Mamma mia Che bello Partito della vita Grandissimi Che difficile questo Aiuto Ok siamo passati in vantaggio Di nuovo come prima una volta Vai E attento Espy Hai Robi dietro di te Espy No Robi Attiva il paracadute all'ultimo Espy Attiva il paracadute all'ultimo Così riesciate di non toccare Vado 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 Sennò poi non c'è più tempo Ok Corro Ok Ok Let's go Let's go Ah io mi devo buttare in mezzo E mia No attenta E mia Irene E mia Irene E mia Irene Quasi Aspetta arriva Daniels Arriva Daniels No No Robi No Vanno in vantaggio loro 9 ad 11 Due punti di vantaggio per noi 24 a 22 Ancora due tiri Ok vai Espy Vai 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 Fari aspetta Aspetta che ci sono loro due Aspetta che ci sono loro due Con calma Con calma Con calma Respira Ok sono andati Sono andati Ok vado 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 Ok Piano 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 Paracadute Uno male No Non l'ho quasi buttato Male Male No Ok Ok Sono ancora Sono ancora sopra Vai Fere Sto leggermente oscillando Non datemi un colpetto Oh porca miseria Mi ho buttato uno Ma sono riuscita a tenere Oh mio Dio No No Ma dai Però ho buttato uno di loro Ho buttato uno di loro Però hai fatto bene Hai fatto molto molto bene Quindi 5 a 5 5 a 5 Rimaniamo in vantaggio di due punti Sono sospeso non so come Ah Dannazione Ci giochiamo tutta l'ultimo round Con solo due punti di vantaggio Siamo fregati Io ve lo dico Ho una paura matta E non so perché Non finisce Manca qualcuno Credo che il fatto che Espi è sbilanciato Non fa finire il round Guarda come si muove Ah ok è andata Ce l'abbiamo fatta Ma che secondo me era Voleva vedere se crollava Esatto Avevo un pochino di parking Sono scusate Vado Ok Ok Aspetta Lascio andare Robby prima Ok Ok Aspetta un altro po' Sì io mi affaccio giusto Con calma Con calma Con calma Con calma Uh Mi ha fatto da rampa Irene Piano No Sono caduta di niente Ma no Io forse non arrivo Come non arrivo Io forse non arrivo Ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto ragazzi È finita È finita Abbiamo perso Ma come Abbiamo perso il round Steph mancavi tu però E' tutta colpa mia Scusatemi Dovevi fare comunque quattro punti Quindi ti perdoniamo Era comunque una mission impossible Bene che ti riesci a dire Tutto Scieteci per il like E' questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare Iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Grazie.